ciao a tutti amici eccoci qui con un nuovo video ma prima voglio vedere quanti quanti giubbotti o 7 si possono anche bastare le munizioni al massimo ok allora prendiamo il menacea che più sicuro perché la moto non me la dà per fare la la quinta missione dopo c'è l'ultima dovrebbero essere vediamo se dice che c'è i soldi qua dentro ci sono io dico che ci sono e che un po che gioco un po che non ritiro qualcosina 45 milioni e 85 mila va bene andiamo a casinò via per avviare questa missione ci siamo imparati E con questo mi fai paura Non fai paura a nessuno Solo perché gli ho rubato un po' di auto in giro Eh, non avendo i mezzi Beh, io ho l'accesso Vediamo se ho l'accesso dietro No, qui no E qui? No, perché c'è il pass Intanto Mi metto Metto le armi Però sono sicuro che non Non mi fa entrare così vestito Almeno Mi cambio Togliamo le armi Perché ho provato Carica, carica E non va più Si blocca Adesso mi vesto da bandito Ah no, sto così Sto così Dopo Mi cambio dopo Quando c'è la missione Ho visto soltanto Da quando ho preso l'attico Che se schiaccio Il pulsante della velocità Va appena appena Guardate Più veloce Lo vedete I movimenti Ecco adesso Ho rallentato Guarda Adesso va il più veloce Poco a poco Ecco qui Adesso rallenta Io premo La velocità Guardate Vedete I movimenti Sono un po' Più veloci Ok Avviamo la missione Mettiamola facile E visto che entro Giocatori bassi Così Facile Lo mettiamo facile Questo è un hacker 35 Cioè 35 Livelo 8 Impossibile Livelo 8 Così Cioè Ha ucciso 35.000 Player Il livello 8 E' un hacker Ok Ok Adesso metto pausa E riprendo appena I player Sono dentro Finora Non è entrato Nessuno Ho messo anche Facile Ok Aspetto Fermo Metto pausa Il video E aspettiamo Aspettiamo Chi entra Vediamo un po' Come va Ecco Ecco il video Riprende Stanno entrando 28 secondi E parte E' facile Si parte Si parte Si parte Si parte I used To be Caught up In material Things Sick rides Luxury real estate Snap Batic followers Yeah Don't forget To like And subscribe But I let all that Go Yeah Woohoo This is a spiritual war People A spiritual war It's not about looking good Without your shirt on So you definitely will It's about complete The whole experience Brucie's truth baby Now let's do another round Well this might be a spiritual war But I can't know anything about it So I'm just going to leave you all to it Have uh Have fun I guess Good luck I'm going to inspect the kitchens Oh And for the record I was not at this meeting That's probably for the best Take it easy Yeah Brucie kibbutz I don't believe we've been introduced But yes I am going to change your life Get you in shape These days It's a mental As well as a physical quest I'm so strong mentally I could I could Break That just in half Just with my mind I could But I won't That Would be dangerous Mr. Chang's uncle Wants to thank you For your Assistance He has Contested us We are going to war With the Duggans Procedure Daja Avery Duggan Runs a multinational Cooperation Their principal Interest in San Andreas Is oil And gas Currently They have four tanker trucks In the city You destroy them Then Call us Move To the big target Ok Good luck Out there I wish I could go with you But we got another round To get in Let's do it Uno Ha scritto E messo la missione Facile Ha scritto Easy Non le ho risposto Perché Se l'ha visto Cosa vuoi che Gli rispondo Ci dovrebbe essere Adesso Il menacer A meno C'è un po' Il blindato Che mi Protegge Un po' Eccolo qui Eccolo qui Basta 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 Non ne possiamo più Di tutte Se telefonate Sì Sì Dai che ci siamo La prima è questa No Non è quella Quella gialla Là sotto Mettiamoci così Vaffanculo Metti giù Sta merda Allora Uno sta andando Sul C Quindi Lo lascio Tranquillo L'ha preso Io Continuo a mettere Giù il telefono L'altro E' lì Vicino al D Quindi Se Lo abbatte Non so Come fa Vare L'elicottero Pensavo Che riusciva Questo qui Ma Vedo che Non E mi dicono Anche L'hai messa Facile Sì Perché Dopo di questo Ti voglio Voglio vedere Ancora Non L'ha trovato L'autobot Questo qua Ok C'è riuscito Adesso Chiudiamo Che non me ne frega Niente Tre vite Abbiamo Di squadra Quindi I soldi Li beccano Lo stesso Come fa Aver distrutto Tutte Le auto Sisterne Che ancora Non le vedo Io Con l'elicottero Adesso Si vedono Agli altri Gli da Le comodità A me Mi toglie Le cose Sta Rockstar Veramente Stavo Dicendo Una brutta Parola Non l'ho Voluta Dire Dicendo C'è ancora una Vediamo se ce la fa uno di loro E' proprio lì E' lì sotto E' proprio qua sotto Purtroppo Vediamo se la vedo da qui Si l'han presa No Nessuno l'ha presa L'ha presa Oh meno male No Non l'hanno presa ancora Non l'ha vista E' qua sotto Non riesco a vederla anch'io Troppo è imboscata bene La presa No meno male Così è finita sta missione Are you done at the gas company? Quick Get out of the area Gimme phone Nugato's fucka didn't you Lascia la zona, ok Missione finita, meno male, la quinta Aspetta che la squadra la lasci Ok Adesso da furbo che ho la taglia Esco dalla sessione E poi faccio il prossimo video L'ultimo dovrebbe essere adesso Quello che mi serve per il colpo Forse aumenta Però devo essere sicuro Prima Intanto nel video si vede I soldi, voglio vedere se cambia Con le misure di sicurezza Il denaro si alza di più Aspettiamo qua il benedetto caricamento Alla prossimo e l'ho dovuta mettere facile perché perché ho visto che molti giocatori hai visto sono uscito con la taglia eh sì così nessuno mi spara adesso così fermo il video dentro la sala giochi giù alla lavagna così vedo proprio l'incasso che sarebbe che cosa dice l'incasso approssimativo va bene ecco sta caricando adesso quando inizia a fare queste cose qui che si vedono i pezzi muovere muovere vediamo quanti soldi mi ha dato 50 li ho presi sempre più 8670 quindi anche loro li ha presi come me ok adesso fermerò il video soltanto sull'incasso 2 milioni 326 mila va bene mettiamoci un giubbotto antiproiettile e fermo il video qui vado a fare una carica giubbotti e basta e faccio l'ultima missione che sarebbe questa qui misure di sicurezza ok il video finisce qua questo qui è la era la quinta missione della signorina becker